Un passato di dolore, un destino che può essere cambiato, bisogna rompere il silenzio e andare contro ai miti e alle tradizioni. Un cambiamento, un sacrificio, una lotta per salvare tutte le ragazze che hanno subito questo e non è un abbandono della propria cultura. Cambia, Egitto, Malesia, India. E molti altri paesi adottano questa pratica. È giunto il momento di fare qualcosa.